Non devo dimostrare che la Terra è piana, perché le prove del globo non vengono eseguite con esperimenti veri e fatti scientifici, ma con teorie, modelli matematici e reificazioni che non sono prove. Le teorie, i modelli matematici e gli inganni sono le basi per far credere al globo. Non c'è nessuna prova della curvatura della Terra. Non c'è nessuna prova della rotazione della Terra. Non c'è nessuna prova che il vuoto può coesistere con la pressione dell'atmosfera senza un contenitore. Non c'è nessuna prova di tutto questo. Al contrario, esistono le prove che è la volta celeste a muoversi. Abbiamo e crediamo solo alle narrative diffuse dai governi e dalle agenzie spaziali con immagini create in CGI. La maggioranza delle persone non si fa alcuna domanda su tutto ciò. Siamo stati educati attraverso l'insegnamento obbligatorio ad eseguire le richieste dell'indottrinamento inconsapevole per vivere come buoni schiavi lavoratori ed alimentare i parassiti che sottraggono le nostre energie. Chiunque richiede prove scientifiche sulle documentazioni fasulle dell'istruzione viene ignorato quando non eliminato. Quando si chiedono le dimostrazioni ai governi riguardo alla veridicità delle loro direttive si viene derisi se non denunciati come sovversivi o come cospiratori. L'intero sistema mondiale è una gigantesca menzogna per sfruttare gli esseri umani e tenerli sotto controllo in modo che siano separati e divisi fra loro per classi. L'opponente industria del sistema finanziario vende alle persone l'idea di un glorioso futuro facendogli credere una vita su altri pianeti ma è un futuro iniettato solo attraverso l'ipnosi di massa grazie alla propaganda televisiva, ai film, ai device e il web. È solo un sogno ipotizzato già dai nostri genitori, dai nostri nonni ma che non si avvererà mai. È solamente un gigantesco spettacolo a spazzatura. Questo è ciò che fa il sistema parassita illudendoci con la speranza di quello che non esiste sopprimendo la nostra vera interiorità spirituale. Siamo ancora in tempo per svegliarci. La realtà è piana, racchiusa in un sistema stazionario e quando arrivate finalmente a capire questo tutto il resto cade come un domino insieme ai parassiti che tengono prigionieri gli esseri umani. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale come sul secondo mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in auto carica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Grazie a tutti.